La comunità LGBT supporta la pedofilia, le relazioni omosessuali durano meno di quelle eterosessuali, le persone trans sono uomini travestiti. Ma veramente? Ciao, io sono Camilla Vagnozzi e questo è Veramente, il podcast di Facta News. Giugno, come molti di voi già sapranno, è il mese del Pride, cioè quel mese che celebra e promuove l'accettazione sociale e anche l'autoaccettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, assessuali, non binarie e queer. Ma perché proprio giugno? Ve lo siete mai chiesti? Dunque, la scelta non è casuale, si ricordano infatti le rivolte di Stonewall del 1969. Oggi lo Stonewall Inn è un monumento nazionale americano dedicato alla comunità LGBT+, per decisione dell'ex presidente Barack Obama, ma concretamente si tratta di un locale di New York, nel quartiere di Greenwich, storicamente frequentato soprattutto da uomini gay, oltre che da alcuni transgender e alcune donne lesbiche. Il 28 giugno del 1969 alcuni poliziotti fecero irruzione con un pretesto all'interno del locale e cominciarono a maltrattare i clienti e a distruggere degli oggetti presenti all'interno. I clienti però si opposero, reagirono alle minacce e anche ai tentativi di arresto e misero in difficoltà i poliziotti sorpresi dalla reazione. Nel frattempo, tra l'altro, una folla si radunò anche all'esterno del locale. Se infatti nei simili episodi che si erano verificati in precedenza i testimoni delle molestie da parte della polizia ai danni della comunità LGBT erano rimasti passivi, quella volta la folla ha iniziato a deridere gli agenti e a lanciare loro degli oggetti, costringendo la polizia a barricarsi all'interno del bar in attesa di rinforzi. Le rivolte, e anche tutto il resto degli scontri, proseguirono per diversi giorni, cinque in totale, coinvolgendo migliaia di persone. Quando terminarono, in breve tempo prese slancio un movimento per i diritti dei gay, la cui manifestazioni per i correnti sono appunto le parate che oggi conosciamo come Pride o Gay Pride. Ascoltiamo, giusto per qualche secondo, le voci di alcuni dei partecipanti degli ultimi Pride che si sono svolti qui da noi in Italia. Siamo orgogliosi dei nostri colori, delle nostre provenienze, delle nostre sessualità, dei nostri orientamenti di genere. E vorrei anche ricordare delle persone che purtroppo il Pride quest'anno non lo possono realizzare. E sono gli amici e le amiche del Kharkiv Pride, del Kiev Pride, che sono in prima linea a combattere purtroppo. E quindi marchiamo noi per loro. Per coloro che ci considerano dei fantasmi, è bene dargli la prova palpabile che esistiamo. Esistiamo come individui, come cittadini e come famiglie, come progetti d'amore. Viva la libertà! Giugno, però, non è solo il mese del Pride. È anche il mese in cui la disinformazione sul Pride, o più in generale sulla comunità LGBT, si accende particolarmente. Come abbiamo ormai più volte visto nel corso delle puntate di questo podcast, quando un tema è particolarmente sentito dal dibattito pubblico o da una parte della comunità o è presente in modo insistente sui social network, diventa purtroppo anche argomento di notizie false e infondate. Diventa però argomento anche di falsi miti ed è proprio questo ciò di cui parleremo oggi, cioè i falsi miti sulla comunità LGBT+. Sul nostro sito www.facta.news abbiamo raccontato e anche debancato 10 falsi miti. Nei prossimi minuti vedremo nei dettagli alcune di queste false credenze. Cominciamo, ad esempio, con il dire che l'omosessualità non è una malattia, anche se la scienza l'ha classificata a lungo come tale. Dal 1952 infatti l'American Psychiatric Association ha considerato l'omosessualità prima una condizione psicopatologica inserita tra i disturbi sociopatici di personalità e poi dal 1968 una deviazione sessuale catalogata tra i disturbi mentali non psicotici, proprio come la pedofilia. Oggi però, per fortuna, le cose non stanno più così. Infatti dal 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali e la considera una variante naturale del comportamento umano. A partire dal 2018 l'OMS ha rimosso anche l'incongruenza di genere dalla lista dei disordini mentali. Un altro falso mito spesso diffuso durante il mese del Pride è quello secondo cui le relazioni tra persone dello stesso sesso durerebbero o meno rispetto alle relazioni eterosessuali. Si tratta di un vero e proprio stereotipo collegato ad una narrazione popolare purtroppo da diversi anni, dobbiamo infatti tornare negli anni Ottanta, quando gli esponenti della comunità LGBT plus venivano per lo più presentati come individui totalmente in preda ai propri istinti sessuali. Guardando però ai numeri e alle ricerche effettuate negli anni si scopre che nelle relazioni omosessuali i livelli di impegno, di soddisfazione e di intimità emotiva sono molto simili a quelli rilevati nelle relazioni eterosessuali. Uno studio del 2016 che per 56 mesi ha seguito la vita quotidiana di coppie omosessuali ed eterosessuali ha concluso che le relazioni di coppie composte da persone dello stesso sesso si sciolgono quanto quelle di coppie di sessi diversi, prendendo in esame infatti la durata dello studio, nel 27% dei casi le prime e nel 28% dei casi le seconde. Lasciamoci però un attimo alle spalle dati e studi e spostiamoci nel lessico. Bisogna infatti ammettere che spesso parlando della comunità LGBT plus si fa molta confusione con i termini, talvolta storpiati, altre volte confusi. Inoltre proprio durante il mese del Pride nasce, sempre più spesso anche qui, un qualche tipo di dibattito, addirittura polemica, sulla complessità della galassia LGBT plus, al cui interno convivono davvero numerose culture riguardanti orientamenti sessuali e identità di genere, alcune delle quali possono apparire superflue ad un osservatore esterno. In realtà si tratta di un lessico tanto vario quanto specifico, perché? Perché è importante garantire ad ognuno una corretta identificazione, se si desidera essere identificati, con determinati desideri, preferenze sessuali o, perché no, anche l'assenza totale di determinate preferenze. Ad esempio, in molti erroneamente ritengono che bisessuali e pansessuali siano sinonimi. In realtà però non è così. Cioè, per capire fino in fondo la differenza vale la pena riprendere la definizione dell'American Psychological Association. Dunque, secondo il gruppo di psicologi, l'orientamento sessuale va dall'attrazione esclusiva per il sesso opposto all'attrazione esclusiva per lo stesso sesso. Immaginando questi due aspetti come in qualche modo degli opposti, nel mezzo possiamo trovare una vastissima gamma di esperienze sessuali, ad esempio l'attrazione per due sessi, ma anche individui che non si identificano in uno o nell'altro genere. Dunque, precisato questo, sarà semplice capire che due termini diversi come bisessuale e pansessuale non hanno lo stesso significato. Nel primo caso parliamo di individui che definiscono la loro sessualità sulla base dell'attrazione romantica per uomini e o donne. Le persone pansessuali invece provano attrazione romantica o sessuale verso un individuo al di là del suo orientamento sessuale o di genere. Rimanendo ancora qualche minuto nella sfera del lessico, vi dico anche che le persone trans non sono uomini vestiti da donna o viceversa. Allora, gli uomini vestiti da donna o le donne vestite da uomini sono definiti crossdresser e il loro comportamento non ha necessariamente a che fare con l'identità di genere percepita o con l'orientamento sessuale. Il crossdressing infatti può essere praticato da persone eterosessuali con il fine dell'eccitazione sessuale, ma anche per mettere in scena delle performance artistiche, pensiamo ad esempio alle drag queen. Gli uomini e le donne trans sono invece persone la cui identità di genere non corrisponde al genere assegnato alla loro nascita. Tecnicamente si parla di incongruenza di genere ed è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una persona trans può scegliere oppure non scegliere, quindi non farlo, di trasformare il proprio abbigliamento alla propria identità di genere, ma questo non rappresenta un dettaglio decisivo ai fini della definizione. Interrompiamoci però un attimo e poniamoci una domanda centrale, cioè abbiamo fin qua parlato di falsi miti, ma come sfatare un falso mito? Entriamo al volo nella nostra rubrica di debunking. Sfatare i falsi miti è spesso problematico perché hanno la capacità di annidarsi non solo nella nostra mente, ma anche nella nostra società. Su tutti gli argomenti sarà facile trovare delle credenze ritenute vere da molti, ma che in realtà sono false o infondate. Il falso mito poi è un'arma a doppio taglio. Cercare di smascherare un caso di disinformazione o convincere un interlocutore dell'infondatezza di una data credenza potrebbe inavvertitamente rafforzare proprio il mito che si cerca di debellare. Per evitare che ci accada è importante che la confutazione del falso mito sia incentrata sui fatti principali di una data narrazione, piuttosto che sul mito di per sé. Non è utile ridicolizzare o considerare al 100% errata una data credenza. Molto più utile e funzionale per una corretta informazione è esaminare dei singoli aspetti di quella narrazione e dimostrare che sono traballanti o infondati. La confutazione di un mito deve poi sempre includere una valida spiegazione alternativa. Spesso è controproducente avventurarsi in una critica ad una data credenza senza aver fatto degli studi a riguardo e senza poter fornire delle prove su quanto questa è errata o fuorviante. Tocchiamo ora un tema per molti molto delicato. Le famiglie con genitori dello stesso sesso e la possibilità di crescere un bambino. È un tema molto dibattuto in diversi paesi al mondo e tra questi c'è anche l'Italia. Ricordiamoci bene che questo non è un podcast che vuole fare politica o propaganda e ognuno può avere le proprie opinioni, però è importante in qualche modo fare una scientifica chiarezza su un mito che spesso accompagna questo argomento. Stando a quanto oggi ci dicono studi e ricerche scientifiche, una famiglia con due genitori dello stesso sesso non danneggia la crescita del bambino. I primi studi sul benessere dei bambini cresciuti da coppie omosessuali risalgono agli anni 80 e sono raccolti nel volume Lisbian and Gay Parenting pubblicato nel 2005. Emerge che non ci sono prove che suggeriscano che le donne lesbiche o i maschi omosessuali non siano idonei a essere genitori oppure che lo sviluppo psicosociale nei bambini sia in qualche modo compromesso rispetto ai figli di genitori eterosessuali. Ma non solo, ci sono anche degli altri studi. Nel 2020 ad esempio un articolo pubblicato sulla rivista Child Development ha analizzato la produzione scientifica compresa tra il 2004 e il 2019, giungendo a conclusioni molto simili rispetto a quelle che vi ho appena riportato. I figli di madri lesbiche, sulle quali esiste una letteratura più ampia, non differiscono dai figli di genitori eterosessuali in termini di adattamento psicologico o di qualità delle loro relazioni con i genitori e gli aspetti della genitorialità ritenuti importanti per la crescita dei bambini, come ad esempio il calore e la sensibilità, sono gli stessi nelle famiglie con genitori gay, lesbiche o eterosessuali. Continuando poi a parlare di bambini, non è in alcun modo vero che la comunità LGBT plus supporti la pedofilia. È un falso mito non recente, ma che continua ad accompagnare la comunità da diverso tempo. Prima di spiegarvi perché si tratta di una notizia falsa, facciamo chiarezza su un aspetto. La pedofilia non è un orientamento sessuale, ma una parafilia, è un termine con cui si intendono le fantasie, gli impulsi sessuali o dei comportamenti ricorrenti e intesi in qualche modo sessualmente citanti che coinvolgono oggetti non umani, oppure la sofferenza o l'umiliazione di se stessi o del proprio partner, oppure anche bambini o persone non consensienti. La pedofilia quindi è un'altra cosa rispetto all'orientamento sessuale. Detto ciò, precisiamo una volta per tutte che in nessun documento, manifesto, evento pubblico, dichiarazione, la comunità LGBT plus ha espresso un qualche tipo di supporto verso la pedofilia. Tutto ciò non è mai successo. È poi falso sostenere che pedofili e molestatori di bambini siano per la maggior parte persone omosessuali. La convinzione è stata del tutto ribaltata dalle ricerche di Nicholas Groth, pioniere nel campo delle abusi sessuali sui bambini, che ha teorizzato l'esistenza di due tipi di molestatori, i pedofili fissati e quelli regressivi. Mentre i primi non possono essere definiti omosessuali o eterosessuali perché spesso trovano gli adulti di entrambi i sessi ripugnanti, quelli regressivi sono generalmente attratti da altri adulti, ma si sono statisticamente rilevati per la maggior parte eterosessuali. Inoltre, secondo il Zero Abuse Project, che da anni raccoglie risorse utili a combattere gli abusi sui bambini, la maggior parte dei molestatori si dichiara eterosessuale. Questo episodio per noi oggi finisce qui. Spero di avervi chiarito le idee su alcune false storie che sentiamo spesso ripetere, non solo magari da conoscenti, ma anche da personaggi pubblici. Vi rimando alla lettura del nostro articolo, che vi lascio tra i link nella descrizione della puntata, per scoprire quali altri falsi miti abbiamo sfatato. Ad esempio, non è corretto ritenere che in Italia il percorso di transizione sia troppo semplice, come in molti sostengono. Si tratta in realtà di un cambiamento complesso che coinvolge esperti e mette al centro la salute e il benessere dell'individuo. Ma ne parliamo in modo approfondito nel nostro articolo. Noi ci sentiamo venerdì prossimo e buon mese del Pride a tutti voi! Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Sceglia chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Facta News su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Facta News è stato scritto da Camilla Vagnozzi basato su un articolo di Simone Fontana ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Camilla Vagnozzi e questo era veramente il podcast di Facta News.